Musica Buongiorno a tutti, oggi andiamo a una volta nel quadrilatero d'amore Siamo qui in via Montano Paglioni, nella loggia di Armani E qui nella parte c'è Louis Vuitton, che tutti conoscono nel Brasile Quindi, buona tardi qui in Milano Grazie Grazie Ma da Milano, il triangolo d'amore, via Margutta, via Spiga, via Montenapoleone Grazie 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 Continuiamo nel quadrilatero da moda Siamo in via del Gesù Che fa parte di tutta l'area che comincia in via Montenapoleone Adesso siamo in via della Spiga, entriamo in via del Gesù in alto delle strade famose del quadrilatero della moda Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.